ciao a tutti amici della bilancia benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami bilancia tendenze energetiche generali per la seconda parte di luglio 2022 grazie abbiamo l'imperatore amici della bilancia qui si parla di stabilità di concretezza si parla di regole di struttura e per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a una figura di autorità come per esempio un padre un capo o semplicemente una guida andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa hanno da dirvi l'osservatore qui si tratta di diventare osservatori della vostra vita è una carta numero 49 e parla proprio di come vi posso dire prendere distanza un attimino da quelli che potrebbero essere le situazioni che avete in questo momento e diventare osservatori di voi stessi osservatori della vostra vita delle vostre reazioni delle situazioni in cui vi infilate e soprattutto delle situazioni che attirate ok perché è un po quello no quando ci si infila in qualche situazione perché normalmente la si attira che noi siamo coscienti o meno la si attira sempre con i pensieri che facciamo per quello che è molto importante disciplinare i pensieri essere consapevoli del tipo di pensieri che si fanno andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo quindi non tutto risuonerà con voi prendete quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione qui sotto trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi allora partiamo con un fante di spade nuovamente l'imperatore abbiamo il mago il quattro di pentacoli il mondo e il nove di pentacoli fante di spade allora fante di spade potrebbe rappresentare un figlio nel momento in cui questo imperatore potrebbe rappresentare il padre si può parlare di una relazione tra padre figlio per esempio oppure potrebbe guardate uscito anche il carro oppure potrebbe parlare di qualche vostro sottoposto o di qualche vostro superiore dipende voi che ruolo avete cioè se siete dei capi quindi avete un'azienda nelle vostre mani oppure padri o se siete figli barra dipendenti ognuno poi lo applichi alla propria realtà sta di fatto che con questo fante di spade c'è stata quello che probabilmente è stata una sorta di immaturità emotiva e mentale in quello che potrebbe essere lo svolgimento di questa situazione di questa relazione e nel senso che c'è stata questa sorta di idealizzazione se vogliamo di una relazione di una situazione di un lavoro senza però diciamo così entrare troppo nel pratico questa è un'attitudine che avevate perché adesso avete l'imperatore l'imperatore parla di saggezza di stabilità di regole di concretezza di costanza imperatore e colui che ha il potere materiale potrebbe rappresentare anche un capo per qualcuno o comunque una persona che è presente all'interno della vostra vita e che potrebbe essere un punto di riferimento abbiamo poi la carta del mago qui sento che c'è qualcuno che avrebbe voglia di cominciare qualcosa per conto proprio c'è la necessità di verrebbe da dire diventare indipendenti ok c'è questa questo bisogno di manifestare la propria realtà di concretizzare mi verrebbe da dire quello che è la vostra volontà il vostro desiderio ma con questo 4 di pentacoli sento che c'è qualcuno che si sta fortemente attaccando a qualche cosa e per qualcuno potrebbe essere quell'ideologia di cui stavamo parlando all'inizio con questo fante di spade abbiamo poi anche la carta del mondo e qui arriva un cambio ragazzi un cambio o sì o sì vi faccio presente che su sette carte quattro sono arcani maggiori quindi sarà un periodo intenso e il mondo vi porta quello che è il cambiamento è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo è quello che è l'arrivo la pagamento per qualcuno potrebbe anche essere la nascita di qualche nuovo tipo di idea di collaborazione e per qualcun altro potrebbe anche fare riferimento ad uno spostamento quindi è un trasloco piuttosto che sia un movimento anche un trasferimento di lavoro ok mi parlano di giochi sportivi quindi non so se per qualcuno possa avere un senso ma io lo dico abbiamo poi un 9 di pentacoli ed è qui che vi volevo piena totale completa indipendenza da qui in avanti la fine di luglio ragazzi è un successo ok 9 di pentacoli una carta di forte abbondanza di indipendenza è una carta di amor proprio è una carta di forte appagamento e da lì arriva il carro quindi questo movimento in avanti nella vostra vita in quelli che potrebbero essere i progetti per qualcuno è molto forte lo spostamento è quindi ci sarà un trasloco un movimento un viaggio qualche tipo di dislocazione diciamo di tipo fisico ok andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta io intanto ne approfitto per comunicare che ho iniziato a pubblicare il videocorso sui tarocchi è un corso gratuito è un base quindi è adatto veramente a tutti è molto semplice e nel caso volesse supportare il canale con qualche tipo di offerta ho attivato il super grazie che è questo cuoricino con il dollaro ecco se avete piacere di offrirmi un caffè o di così ricambiare il tipo di sforzo che ho fatto nel creare questo corso siete benvenuti insomma allora andiamo a vedere il fante di spade appeso al contrario e 10 coppe qualcosa si è sbloccato qualcosa si è sbloccato avete un altro 10 quindi c'è stata in un certo senso mi viene da dire la fine di quello che era l'idea di qualche cosa e con la carta dell'imperatore si è iniziato a concretizzare qualcosa andiamo a vedere l'imperato wow abbiamo un'altra volta al 9 di pentacoli ce l'avevate già qui e la regina di spade al contrario quindi qui davvero qualcuno è nel proprio potere personale c'è questo 9 di pentacoli già quindi parla di una ricchezza interiore ma anche esteriore ecco forse con questa regina di spade al contrario potrebbe esserci un po di confusione mentale un po di magari disorganizzazione per quello che riguarda un lato di questo progetto comunque di questa cosa di questa famiglia potrebbe anche essere di questo gruppo c'è qualche cosa che ancora non si vede tanto chiaro con questa regina di spade al contrario andiamo a vedere il mago il sole sì qui ragazzi c'è voglia di espansione c'è voglia di cominciare qualche cosa di nuovo c'è voglia di creare la propria realtà ma con questo fante di pentacoli le cose stanno andando un pochettino a rilento non tanto alla fine perché comunque avete il sole il sole con una parte di abbondanza di crescita di sì diciamo che il vostro processo di comprensione sta andando a rilento probabilmente è per quello che c'è la regina di spade al contrario dove c'è ancora un po di confusione mentale ma a parte del processo comunque voi l'avete già fatto perché avete l'appeso al contrario l'appeso parla sempre di quello che è la fine della sofferenza allora andiamo a vedere il 4 di pentacoli 2 di pentacoli al contrario e 6 di pentacoli allora io credo che qui ragazzi si faccia riferimento proprio quello che è la questione economica il denaro i soldi fondamentalmente perché qui c'è qualcuno che mi parlano di investimenti quindi è come se qualcuno avesse paura di fare degli investimenti per cui resta attaccato a quello che è la propria materialità al proprio denaro ok per cercare di evitare alcuni alti e bassi ma non è così che si fa fondamentalmente non è questo che dà l'equilibrio il fatto di rimanere attaccati di non diciamo così spendere perché comunque il 4 di pentacoli anche una carta che parla di avidità è vero magari ci avete messo tanto a costruire la vostra stabilità il vostro potere personale con i nuovi di pentacoli quello che è la vostra abbondanza ma cercate di vedere come se i soldi fossero amore vedete lì in questo senso quanto amore state trattenendo quanto amore non vi state dando perché vi state attaccando a tutto questo amore perché non c'è questa sorta di apertura del cuore poi i motivi possono essere mille importante che voi capiate perché importante che voi osserviate perché vi state comportando così quali sono le paure che vi fanno rimanere contratti andiamo a vedere il mondo un diavolo 8 di bastoni e 9 di spade io credo che qui cesserà quello che sono i condizionamenti mentali quello di cui parlavamo prima fondamentalmente perché qui qualcuno farà una sorta di comunicazione che darà la a questo mondo che darà il via al cambio di cui parla questo mondo qui abbiamo comunque il diavolo e ragazzi parla di condizionamenti mentali e lo vediamo anche in questo nome di spade che parla di pensieri di ansie di preoccupazioni probabilmente qui c'è qualche comunicazione nell'aria o che deve arrivare o che voi dovete fare che crea delle preoccupazioni che crea costrizione andiamo a vedere il 9 di pentacolo ok allora abbiamo la sacerdotessa al contrario il 3 di coppe al contrario si vi vedo molto per voi stessi insomma il 9 di pentacolo una carta di forte indipendenza la sacerdotessa anche però quello che mi vogliono dire queste due carte al contrario e siete un po come vi posso dire un po troppo centrati su voi stessi sulla vostra indipendenza quindi andiamo avanti con il carro abbiamo un 4 di coppe al contrario scusate un 4 di pentacoli al contrario è un asso di coppe e qui si tratta di lasciare indietro questo 4 di pentacoli ce l'avete di nuovo anche qui è una sorta di attaccamento e vedo che alla fine del periodo riuscirete a lasciarvi indietro questa sorta di perché fondamentalmente l'energia di questa carta che l'avidità credo che sia come vi posso dire fomentata questa avidità dalla paura di non riuscire ad essere indipendenti dalla paura di non riuscire a fare anche un buon investimento magari però ad un certo punto adesso io non so di che cifre si stia parlando ma si dice che chi non risica non rosica chi non rischia non guadagna ok quindi anche lì fate le vostre valutazioni del caso non rimanete attaccati più del dovuto a quello che è questa convinzione piuttosto che il vostro denaro di tipo materiale l'asso di coppe fa bene sperare in un nuovo inizio ok qui c'è con la carta del carro e questo asso di coppe quello che è un nuovo inizio una nuova direzione ok si va verso la conquista di nuovi obiettivi bene beh direi che tutto sommato vediamo se riesco ok non so quanto duri perché continua a cambiare la luce tutto sommato ragazzi non è un cattivo periodo anzi vi porta verso nuovi inizi vi porta verso una nuova direzione è un nuovo stato di appagamento personale ok andiamo a vedere che cosa da dirvi coscio io intanto volevo ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like le iscrizioni i commenti le donazioni quindi grazie davvero a tutti bene oscio cosa diciamo agli amici della bilancia abbondanza wow abbondanza 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 in viaggio e qui giustamente avendo la carta del mondo del carro si parla di spostamenti seguire il flusso e rimandare allora quello di cui siete diciamo consapevoli o perlomeno quello che si vede è che siete in questo questo è un re di denari e ragazzi quindi siete in una fase di abbondanza se non ma avete anche l'imperatore quindi ossi ossi per moltissime persone così se non è un abbondanza perché essere nell'abbondanza non vuol dire essere ricchi essere nell'abbondanza vuol dire potersi permettere quello che si vuole quando lo si vuole quella è l'abbondanza ok quando io voglio una cosa avere la capacità di potermelo permettere non vuol dire necessariamente accumulare denaro quella un'altra cosa in viaggio allora questa carta parla del fatto che vi dobbiate dobbiate un po godere questo viaggio è è un percorso ok è un un movimento che si fa e qui lo sento molto collegato alla carta del carro quello però che non vedete è questo seguire il flusso e rimandare da un lato avete bisogno di seguire il flusso degli eventi ok quindi lasciare che le cose anche quelle meno piacevoli si sviluppino proprio perché probabilmente fa parte di quello che il disegno divino però fate attenzione perché voi tendete a a rimandare fondamentalmente a rimandare fondamenta non ce la si fa con questa luce c'è qualcosa che state procrastinando potrebbe essere qualche tipo di scelta potrebbe essere questa decisione di andare a partire lotto di bastoni mi era già uscito qui e anche c'è qualcosa che state rimandando qualche tipo di scelta che state che state rimandando qualche tipo di movimento io direi bene andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio da parte delle fatine per chiudere la lettura vediamo che cosa altro hanno a dirvi amici della bilancia ok meditazione quindi qui si tratta di trovare la propria voce interiore di fare spazio tra i pensieri e prosperità e ve lo metto qui vicino alla carta dell'abbondanza perché parla appunto di abbondanza di prosperità qua c'è il grano il grano e cibo quindi inteso proprio come anche l'abbondanza di tipo fisico di tipo pratico amici della bilancia questo è quello che ho per voi spero che in qualche modo la lettura vista è stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao